Buongiorno, sono Luca Sido Tipinto dell'Immobiliare, siamo oggi qui a Vinovo in via Carignano e al 30-4 in quella palazzina vi porterò a vedere un bel appartamento. Venite con me, passiamo attraverso il parco dedicato ai bambini. Il nostro biluccale, come vedete, è sviluppato da questo ingresso che è molto comodo e ampio, ci conduce direttamente nella zona giorno. Questo è il soggiorno, un bel salottino, come vedete, che peraltro a livello di immobilio manterrebbe la parete alla mia sinistra. La luce in questa casa è davvero importante, oggi è una giornata buia, fuori sta piovendo, eppure comunque si può apprezzare la luminosità. Questa è la cucinotta, è una cucinotta che vedete completamente arredata e così verrà ceduta. Vi accompagno a vedere anche la zona notte. Dove la camera da letto, che è davvero molto ampia e luminosa, affaccia anche su un bel terrazzino qui sul parco e viene completamente ceduta con questo immobilio che vedete. I servizi igienici li troviamo alla destra della camera da letto, sono sviluppati sul lungo, nell'affitto non è compresa la lavatrice e il mobile. A completare la casa abbiamo ancora il ripostiglio. È un ripostiglio molto ampio dove si può andare tranquillamente a scapparare qualunque tipo di prodotto. Passiamo alle condizioni di affitto. La richiesta per questo immobile è di 380 euro al mese, più le spese che sono di circa 70 euro, comprensive di tutto. Per cui con 450 euro, spese comprese, potete affittare questo appartamento parzialmente immobiliato. Nel mobilio è anche compreso quell'armadio alla mia destra. Detto questo aggiungiamo anche che è possibile avere un box auto all'interno del pacco box che ci sono nell'interrato, sempre compreso nel prezzo. Arrivederci, buona giornata.